Mamma mia ragazzi che emozione spettacolare, di nuovo in sella Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati in questo nuovo video Non potete capire che spettacolo ritornare in sella al CBR dopo praticamente 4 mesi di inutilizzo Vabbè la... aiuto Fossi oddio Maledetti Fossi Non mi fanno manco continuare, oddio aiuto Aiuto, ok, perfetto Aspettiamo anche quest'altro semaforo rosso Cioè l'ho presa praticamente da qualche... saranno 5 minuti Già 3 semafori rossi Oddio quanti cratiri stanno Comunque ragazzi è spettacolare mamma mia Da quanto tempo non la portavo Vabbè settimana scorsa non vale perché... anzi più di una settimana fa Perché era rotta quindi non l'ho potuta portare... fermo Non l'ho potuta portare... no perché non mi si muove il navigatore Mamma mia ragazzi che spettacolo Allora ci sono un paio di novità Come potete vedere dallo specchietto ho un nuovo casco Il suo Messer Sport Che ho comprato il giorno prima di fare il sinistro Questo casco è un... un casco anti GoPro Perché praticamente ho cercato in tutti i modi di attaccargliela Ma non sono riuscito a trovarci un buchino dove metterla La GoPro è messa appunto in un modo particolare Quindi spero che si veda bene Il microfono sono riuscito a trovare un bel posticino dove metterlo dentro il casco Cazzarola il dosso non l'avevo visto Ci sta nel casco Una scanalatura che sembra fatta apposta apposta per metterci il rod Praticamente ho portato la moto a sistemare in una concessionaria un po' distante da casa Perché quella che c'avevo vicino a casa Ovvero quella dove ho comprato la moto stessa Non mi è piaciuta tanto Perché praticamente quando ho comprato la moto La davano come perfetta, come nuova Ma in realtà nuova non lo è Cioè era comunque di seconda mano La davano per nuova Ma in realtà non era nuova come volevano far credere loro Perché dopo che io l'ho presa Praticamente mi hanno richiamato una settimana dopo Per dire che ci stava un richiamo Perfetto Vabbè non ci sono problemi Fino a quando il richiamo non risaliva parecchi mesi Prima cioè di quando io acquistassi la moto Quindi dico io l'hai tenuta la ferma come moto di seconda mano Avresti potuto risolverlo Prima il problema del richiamo Non che hai aspettato l'ultimo momento Per dirmelo Per farmela comprare fondamentalmente Poi Vabbè partiamoli la moto Tutto quanto Passato un mese Problema risolto Mi dicono tra mille chilometri Ritorna Che ti cambiamo ruote Corona Catena e pignone E freni Beh Mille chilometri Non so niente Credo Io pensavo Che comunque Me la facevano loro Gratis E non che dovessi pagare tutto quanto Dopo un'ora e mezza di conversazione In realtà più che conversazione era Cioè Ti lasci indietro la moto Se li do cambia tutte ste cose Mi ordini quella nuova Che non mi ha voluto ordinare Quanto poi dopo un paio di settimane Era arrivata quella nuova Vabbè Comunque riesco a farmi cambiare le gomme E va bene cambiate le gomme Il problema è che il cambio delle gomme È durato ben due mesi Cioè Ma stiamo a scherzare Due mesi Un paio di gomme Ma ma cosa le producevano Ci mettevano due mesi Per cambiare le gomme Poi hanno cambiato le gomme Dopo due mesi Vado a prendere la moto Boom Non frenava Il freno di dietro Vabbè Ripompiamolo leggermente Perché avevano forse cambiato olio Avevano cambiato qualcos'altro Infatti poi Ha funzionato Il freno Peccato che c'era un altro problema Cioè La moto praticamente Faceva prima Seconda E niente Basta Non entrava manco in folle E non riuscivo neanche A passare Gli altre marce È una cosa incredibile Tant'è vero Che mi sono fatto Praticamente Tutta la strada Con la frizione premuta Vabbè Il giorno dopo Avevo pure le sale della patente Quindi vi lascio immaginare Per prendere appunto La moto La due Quindi sono ritornato là E mi fa Guarda Se mi lasci la moto Della sistemi Ho fatto no Bello mio Non te la lascio La moto Ma la sistemi E loro dicono Si hai ragione È un problema nostro Il problema Era la frizione Regolata male Ho capito Ma se il problema Non riguardava la frizione Che ci hai messo a fare Mano alla frizione E quindi Ammettilo Che il disagio Che il disagio Si è voluto creare Quando sono venuto A questa concessionaria Ho visto La stessa ragazza Che ci stava All'altra Alla prima concessionaria Mi sono un po' spaventato Infatti Pensavo fossero Tipo Associate No infatti Io l'avevo chiesto Ma hanno fatto No non ti preoccupare Non siamo associati Dice Speriamo di avere Una votazione positiva Porca miseria Questa concessionaria Si chiama Moto Japan Spettacolare Mi avevano detto Che i colori Sul sito Honda Non erano disponibili Quella è la colorazione Delle megarine Nonostante ciò Loro in meno di Quattro giorni Io li avevo portati A sabato Lunedì mattina Mi hanno chiamato Dicendo che Il portale Honda Non era ancora aggiornato Vabbè aspettiamo Intanto ci sono problemi Tanto arriva Pasqua Però poi la cosa bella È che martedì Mi richiamano Mi mandano il preventivo E venerdì Prima di Pasqua Quello mi chiamano Guarda la votazione È pronta Spettacolare Cioè assurdo Di una rapidità unica Quindi mi sento Di consigliare Appieno la concessionaria Moto Japan Lavoro fatto Opera d'arte Infatti ora ci fermiamo E vediamo insieme Il lavoro che è stato fatto Credo che abbiamo una moto Se questo non fa il furbetto Cerchiamo di Far filtering Ora siamo quasi arrivati Dove ho fatto vedere la moto La volta scorsa Così Facciamo nello stesso posto Ecco Noi dobbiamo andare Praticamente Dove ci sta Quel camion Giriamo Entriamo Guardiamo Ci sono i zingari Ci sono i zingari Andiamocene Andiamocene Sennò qua ci fottono tutto Devono fare qualcosa Però Non lo so Vabbè Comunque Andiamocene da qua Vi giuro C'ho una paura E proviamo a cercare E proviamo a cercare un altro posto Allora ragazzi Che vi devo dire E dove andiamo Ci fermiamo qua Proviamo ad entrare in quest'altro parcheggino qua Questo è più piccolo Questo è più piccolo Non dovrebbe esserci nessuno Magari si Fermiamoci esattamente qua Dove Spero di non dar fastidio a nessuno Spegniamo Allora Vediamo i lavori effettuati Ci abbiamo un specchietto Questo qua Un po' graffiettino però eh Vabbè così Dall'effetto Che è un po' più vecchio Infatti guardate Potevo cadere da sto lato Perché da sto lato C'ho Carina un po' rovinata E anche un po' Quaschieggiato E anche quello Quindi se cadevo da sto lato Invece questo lato nuovo Non questo che era sano Vabbè comunque Quindi questo è stato cambiato Perfetto Belli i colori I colori sono uguali? Dai sì Sono uguali Poi abbiamo Vabbè lo specchietto Perfetto Carina pure Perfetta Sì E che altro? Vabbè questo no Ecco lo scarico Che Graffi Alcuni graffi sono rimasti però Molto di meno rispetto A come stava graffiata Prima Poi magari gli diamo pure una pulita Perché me l'hanno data Però non è perfetta Come quella magari che è Ti dico Poi ecco Vediamo se funziona Invece Il caricatore USB Se è stato messo Sotto chiave Oppure no Perché c'ho anche il cavetto Quindi ora posso togliere Il telefono da qua Bel portatelefoni Eh Fatto io Prendendo spunto Da un altro video Che sta Su Youtube Oddio Fa un caldo Assurdo Ecco il microfono Non so se il microfono Sono uscito o meno Spero di no Comunque apriamo Inseriamo Questo Questo qua dentro E attacchiamo pure questo Così il telefono Carica Ce lo stacco Un carica più Niente Non è stato messo Sotto chiave Vabbè Non fa niente Poi vedrò Di mettermelo io Vabbè Comunque la mia opinione Su questa Su questa officina Non cambia È sempre Perfetta Un'ottima foto Un'ottimo lavoro Vabbè Che dirvi ragazzi A questo punto vi saluto qua Vi lascio Con il finale Riprendo la mia Fantastica moto Quindi Ci vediamo al prossimo video E E niente Domani tutto al primo Andrà a fare un giretto E riprenderò quello che succede Bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un mi piace Scrivete nei commenti Se volete sapere qualcosa E a presto Ciao ciao ragazzi A presto 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 A presto